FIPILI più sicura grazie al piano di interventi straordinari da 26 milioni di euro presentato questa mattina a Firenze dall'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti. L'accordo è stato firmato dai gestori regione Toscana, città metropolitana di Firenze, provincia di Pisa e Livorno e Anci Toscana. La FIPILI è la strada regionale più importante, l'unica a due corsie per senso di marcia. Nel dettaglio i lavori interesseranno varie parti del percorso. I primi interventi sono tra Montelupo e Ginesta Fiorentina, iniziano lunedì e dovrebbero durare otto mesi. Altri lavori sono poi previsti a Livorno, sul ponte Mogadiscio e per il ripristino della rampa di accesso in via Quaglierini, tra Montelupo ed Empoli Est, sul viadotto San Colombano a Firenze e nei comuni di Scandiccio e San Mignato, dove sono in programma interventi fonoassorbenti. Oltre a questi lavori straordinari per la FIPILI, i soggetti gestori stanziano ogni anno 8 milioni e 400 mila euro. Grazie a tutti!